Questa mattina il candidato sindaco di Trampani, Giacomo Trancheda, ha tenuto una prima riunione con i suoi assessori designati. Il primo incontro si è tenuto a Marausa per spostarsi poi al porto Peschereccio. È un modo diverso di amministrare la città. In futuro verranno anche i funzionari. Non esiste l'idea che un funzionario stia seduto con me. Se il sindaco si muove e deve farlo incontrando le persone, andando sui luoghi e la giunta, non capisco perché un funzionario debba stare seduto. La città si amministra stando sul territorio, non stando dietro le scrivanie. Dietro le scrivanie si fa le carte, poi le fanno giustamente gli impiegati e i tecnici. Dunque chi ha poteri e doveri di responsabilità nella governance va, si confronta con le persone assieme all'amministrazione e al sindaco. Così ho fatto a Delice, così ho fatto a Valdesio e non intendo cambiare registro a Trapani. Stimolare lo IACP a presentare progetti per il rifacimento dei prospetti delle palazzine, sistemare le piazze e i marciapiedi e curare maggiormente il verde pubblico. Sono alcuni dei temi affrontati dal candidato sindaco di Trapani, Pep Bologna, con gli abitanti dei rioni Sant'Alberto e Cappuccinelli, che si è soffermato anche sulla necessità di confronto tra amministrazione e cittadini. Obiettivo? Riqualificare, dare più servizi, favorire la vitalità, l'integrazione e lo scambio culturale. Il candidato sindaco, questa sera alle 19, nel suo quartier generale di Corso Piersanti Mattarella, parteciperà ad un incontro promosso dai candidati della lista Scirocco per Trapani con il comitato Pro Eritrina. Vandali in azione nella notte alla palestra Salvatore Cottone di via Tenente Alberti. Sulla vicenda interviene il candidato sindaco della Lega, Bartolo Giglio. Il problema è che la palestra era concedibile perché aveva tutte le caratteristiche per poter essere affidata alla gestione delle società sportive. Questo passaggio non c'è stato. Noi eravamo stati proprio alcuni giorni fa a fare un video in quella palestra e a parlare di tutta la situazione complessiva degli impianti sportivi a Trapani, in una maniera particolare di quella che poteva essere data e non era data. Adesso voglio dire responsabilità, commissario, io dico che c'è un corpo burocratico amministrativo in questa città che tende ad ingessare nei suoi apparati verticistici piuttosto che a far andare. Il fatto è che oggi contiamo danni economici che chiaramente non ci fanno pensare ad ognuno di noi perché non li tiriamo materialmente dalla tasca, ma pensiamo che ogni cittadino deve tirare fuori qualcosina attraverso le tasse per sistemare di nuovo questa palestra e portarla all'utenza naturale che fra l'altro è l'utenza di un quartiere in difficoltà. Proseguono gli appuntamenti elettorali del candidato sindaco di Paceco, Filiberto Reina. Questa sera alle 21 presso il comitato elettorale in via Regina Margherita a Paceco si terrà un incontro con i rappresentanti delle associazioni del territorio. Domani alle 18.30 il candidato sindaco sarà invece al Museo del Sale a Nubia. Alle 21, sempre domani, si sposterà presso il comitato di Paceco per incontrare gli operatori della piccola impresa. La vita nelle isole Egadi dipende molto dalla efficienza dei trasporti, lo ha ribadito con forza il candidato sindaco per Lega di Salvatore Braschi nel corso del comizio che si è svolto in piazza Matrice a Favignana. Cercheremo di potenziare i trasporti pubblici marittimi e terrestri, ha sottolineato Braschi con la compagnia di navigazione, vorremmo rimodulare gli orari dei collegamenti ripristinando nel periodo estivo il servizio di nave veloce, da qualche tempo soppresso, e la corsa notturna dell'aliscafo con partenza da Trapani alle ore 22.30. Questa sera intanto alle 20.30 un nuovo comizio in piazza Europa a Favignana con la presenza del coordinatore provinciale di Forza Italia, Tony Scilla, e dell'assessore designato, Gaspare Hernández. Il candidato sindaco di Valderice, Giovanni Coppola, propone un dibattito pubblico con gli altri due candidati a sindaco per mettere a confronto i programmi. Confronto e soluzioni per il territorio e la sintesi, dice Coppola, che deve sostenere la buona amministrazione e la buona politica. Forte di questa premessa invito gli altri due candidati a sindaco ad un dibattito pubblico. Decidiamo assieme le regole e incontriamoci per parlarne e scegliere tempi e contenuti. Fin d'ora annuncio la mia massima disponibilità. Il candidato sindaco di Valderice, Francesco Stabile, incontrerà elettori e simpatizzanti questa sera alle 21 presso il bar Royal di Crocevie.